ci troviamo da coffee mood a sera san bruno guardate che originalità si ritorna indietro di 40 anni ma soprattutto per quanto riguarda la professionalità e la pulizia l'igiene gelati all'interno di questi piccoli in questi piccoli contenitori vedete quindi una viene quasi con quel gelato astigianale c'è anche la temperatura poi in una cosa diversa dal solito magari se volete gelato venite qua in modo astigianale ve lo comprate vedete ci sono i pistacchi cioccolato nocciola fior di latte fagola limone amarena e zuppa inglese guardate lo voglio aprire solo per farvelo vedere guardate vedete è una figata sta cosa qua e poi si ritorna indietro guardate anche le maschette come era una volta i coni e soprattutto se volete la brioche anch'essa artigianale c'è un affare una specie di cucchiaio come si usavano con quei gelatai che andavano in giro con le retelle per le strade a vendervi le palline di gelato nella brioche un saluto a tutti a gdj guardate tutto pulito perfetto ordinato dal coffe